Allora, a 15 anni, mi chiamo Samuel e gioco della season 1, ho capito? Quindi ti chiami come me e giochi da quanto tempo gioco io? Fatto, fatto Va bene, se vinci tre partite, entri a far parte del team, se no entri a far parte dell'accademia, va bene? 1-0 2-0 ragazzoli Grazie per il follow ragazzoli Ciao bello, un abbraccio, ciao ciao